Buongiorno signori, io sono Mr. Lul e oggi, visto il momento storico, parliamo di un argomento davvero importante. Vi spiego come evitare il contact center IMSS e parlare con un operatore della vostra sede IMSS di riferimento competente per il vostro specifico problema. Partiamo! Come sappiamo, spesso le risposte date dai servizi online o telefonici messe in campo dall'istituto sono assolutamente inutili. Capita che le informazioni siano addirittura errate e si perda solo del gran tempo a cercare di prendere la linea. Nella maggior parte dei casi, per risolvere i nostri problemi previdenziali, servirebbe l'intervento di un operatore specializzato della nostra sede IMSS di competenza. Ebbene, tutto questo è possibile grazie ad un potenziato servizio IMSS di cui è stata data purtroppo poca pubblicità. Per ottenere il nostro appuntamento telefonico, si spera risolutivo, dobbiamo innanzitutto identificare, trovare la nostra sede. Accedendo al servizio IMSS online dedicato, metto il link in descrizione. Qui, come potete vedere, basterà inserire il CAP, codice di avviamento postale, per visualizzare l'elenco di tutti i comuni disponibili e scegliere così il nostro. Ora ci basterà cliccare sul menu a sinistra, sportelli, sede, orarie, prenotazione, sportelli e poi sul più in corrispondenza del servizio desiderato nel nostro caso, indennità, bonus, ammortizzatori sociali e prenotare. Dopo aver inserito le nostre credenziali, PIN o SPID, sarà necessario descrivere brevemente la problematica, il motivo quindi della richiesta di appuntamento, ad esempio proroga Naspi, blocco reddito di cittadinanza, mancato pagamento indennità covid, cassa integrazione, eccetera eccetera. Avremo così il piacere nel giorno e nell'ora da noi prescelta di poter parlare con qualcuno, si spera, di realmente competente su quella tematica e che ci darà, si spera di nuovo, informazioni certe, utili o ancora meglio risolverà direttamente il nostro problema. Io personalmente non ho avuto ancora modo di testare il servizio, fatemi sapere se qualcuno di voi era già a conoscenza di questa possibilità o se avete addirittura già risolto qualche guaio con questa procedura. Detto questo, io come al solito vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul.